Sicuramente vincere davanti a questo pubblico è stata un'esperienza fantastica, ma vedo che fino alla fine non bisogna mai mollare. La partita finisce al 40esimo e vedo che sicuramente l'avere la panchina lunga di questa squadra è un gran vantaggio. Sicuramente l'assenza di Teo e di Marcello si è sentita, però la squadra e la panchina si è avuto a rispondere nel momento di bisogno. Questa vittoria ci fa capire quanto siamo forti noi come gruppo, moralmente, e fa vedere quanto siamo uniti tutti insieme perché abbiamo fatto una vittoria molto importante anche con l'assenza di Marcello e di Teo. Siamo riusciti noi e la panchina che aiutiamo quelli che giocano di più a compiere questa vittoria. L'abbiamo meritato e guadagnato in campo e significa che dobbiamo ancora lottare altre partite in trasferta e portarci a casa combattendo e lottando come abbiamo dimostrato di fare tutti e dieci oggi in campo.